L'Aquila come modello di ricostruzione materiale, politica e amministrativa da esportare in regione. Questa è la spiegazione degli esponenti del centrodestra aquilano per giustificare l'abbandono della nave comunale che affonda ogni giorno di più. Terrorizza la superficialità amministrativa di questo centrodestra, gli errori che si vogliono passare per operazioni strategiche, le scuse che si utilizzano per non far emergere le inefficienze. Terrorizza il fatto che se si è riusciti a paralizzare la macchina del comune dell'Aquila, altrettanto si possa bloccare definitivamente anche la macchina regionale. A parlare è Paolo Romano, capogruppo in consiglio comunale del passo possibile. Sono i dati quelli che bocciano il centrodestra, dice, non l'opposizione, soprattutto quando si parla di ricostruzione. E i dati certificano come ammonti a circa 300 milioni di euro il totale dei 10 elenchi contributo emanati dal comune dell'Aquila nel 2018. Una cifra di poco inferiore a quella del 2017, dice Romano, quello che fa riflettere anche negli ultimi due anni i contributi reali, che afferiscono cioè a cantieri immediatamente operativi, perché si tratta di pratiche che hanno concluso il loro iter ristruttorio, sono pari a soli 200 milioni su 600, un terzo della cifra totale. Se poi analizziamo continua Romano il 2018, vedremo elenchi contributo terrificanti. Quello del mese di ottobre produce pratiche di cantieri reali per 9 milioni e pratiche che sono in attesa del titolo edilizio pari a 44 milioni. E il titolo edilizio lo rilascia il comune. Sulla questione il capogruppo del passo possibile ha depositato un'interpellanza al sindaco che detiene le deleghe alla ricostruzione a giugno del 2018. La stessa è stata inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale dell'8 ottobre del 2018, ma senza la risposta scritta che l'interpellanza richiede per regolamento. Da allora il sindaco dell'Aquila dice ancora Romano che in aula mitacciò di fargli perdere tempo nel tentativo di sottrarsi alla discussione ancora non ha prodotto nessuna risposta né tecnica né politica.